Piccolini e Marina Alexeeva che scendono in pista, se non sbaglio, con un tango, giusto? Giusto. Hanno sento questo come loro pezzo Johnny. Via allora Mario e Marina. Quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa che importa, tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani e il tuo naso verso un giorno disperato. Ma io se, se ti ancora, se ti ancora, e vivrò, sì, vivrò, tutto il giorno per vederti andar via. Fra i ricordi e questa strana pazzia, il paradiso non esiste, si vuole un figlio, sì. Mario, Cipollini, Marina, Alexeeva e il loro tango. Allora, uh, pioggia di stelle su di noi con un biglietto serie M come Milano, 403759. E mi dì, rispondete alla Lotteria Italia che vi chiama, venite qui sabato prossimo con noi in semifinale per vincere tanto, tanto, tanto denaro. Vi aspetto sabato prossimo. Allora, è il momento della votazione per Mario Cipollini e Marina Alexeeva. Vai giuria! Roberta Flemack, Novi, Heather Parisi, Dieci, Valentina Vizzelli, Dieci, Amanda Leer, Otto, Guillermo Mariotto, Novi. Per un totale di... 46 punti! Mario e Marina, accomodatevi e adesso abbiamo già la classifica parziale data dal giudizio della nostra giuria. Quindi guardiamo questa classifica. Vai! Al primo posto con 46 punti Mario Cipollini e Marina Alexeeva. Secondo posto, 45 punti per Yuma Diakite e Giuseppe Albanese. Terzo posto ha 44 punti per Francesca Reggiani e Sergio Sampaoli. Quarto posto ha 43 punti per Fabio Fulco e Claudia Nicolussi. Attenzione perché io adesso vi chiedo di votare subito per i nostri concorrenti. Allora, diamo i codici. Fabio Fulco e Claudia Nicolussi hanno il codice 0-1. Mario Cipollini e Marina Alexeeva hanno il codice 0-3. Yuma Diakite e Giuseppe Albanese hanno il codice 0-4. Francesca Reggiani e Sergio Sampaoli hanno il codice 0-7. Via le telefonate in questo momento. Vi ricordo che per votare la vostra coppia del cuore suono dovete chiamare il numero 1-6-4-4-4-8 e alla risposta digitare il numero di codice della vostra coppia. O inviare un messaggino con il codice della coppia che preferite al numero 48404. Mi raccomando votate, votate, votate perché vi ripeto, una sola coppia va alla semifinale. Quindi sono in quattro, sono tutti bravi, avete visto quanto cuore, quanta voglia ci hanno messo in questa puntata, in questo ripescaggio, ma solamente una coppia passerà. Volete accomodarvi qui in pista, per favore, e prendere posizione alle stelle in modo che possiamo insieme aspettare il televoto. Eccoli qua, a queste stelle qua davanti, guardate, eccole qua. Sì qui, prego. Eccovi qui pronti. Allora io vorrei adesso, cominciando proprio con Fabio e con Claudia, un appello per il pubblico a casa che vi sta votando. Un appello, è l'ultima possibilità che abbiamo. Mi farebbe molto piacere andare in finale. Tutti quelli che ci hanno votato finora, forse, se facessero un ulteriore sforzo, lo so che chiedo tanto perché sono otto puntate, nove puntate che lo chiedo. Però questa è l'ultima possibilità che abbiamo, quindi ci farebbe un favore, grazie. Mario. A me è capitato anche in attività di rientrare all'ultimo momento, a pochi chilometri dall'arrivo e di battere gli avversari in uno sprint. Per cui mi appello a tutte quelle persone che mi fermano per strada, alle quali mi dicono di avergli regalato emozioni in tutta l'attività che ho fatto. Io spero che ricambino regalando un'emozione, entrando e vincendo un vero stasera. Allora noi siamo stati eliminati due volte e chiedo umilmente l'aiuto del pubblico questa volta perché abbiamo tanta tanta voglia di ballare, di dimostrare e quindi votateci. So che ci volete bene, votateci, grazie. Francesca. Beh io cosa posso dire? Praticamente è la prima sera che ballo, quindi ecco, si vi va di votarci per noi è un piacere. Io abbiamo preparato questi due tre pezzi con grande passione. È ovvio che ci piacerebbe continuare, quindi se avete voglia, 07, 7 spose per 7 fratelli, i 7 samurai, i 7 red di Roma, i 7 golli, 07. Io vorrei chiedere. Adesso qui abbiamo quattro coppie pronte per ricevere il vostro giudizio, ma abbiamo anche una persona lì che deve puntare su un numero da 1 a 4. Sì, la signora Adriana che ha già vinto 100.000 euro, adesso signora lei deve scegliere una stella, se dentro la stella c'è il nome della coppia che vincerà il ripescaggio, lei smancherà il jackpot che stasera sono altri 150.000 euro. La stella numero? Quattro. Quattro mille, la stella numero quattro. Allora io prendo la stella numero quattro che è questa, le auguro che contenga davvero il nome di questa coppia che vincerà il ripescaggio, la consegno adesso, eccola qui, la consegno ora al nostro presidente Valentina, la dovrà custodire fino al momento in cui non sapremo chi vince questa puntata. E poi potremo aprirla. Allora, quanto manca ancora al termine del televoto? Datemi indicazione, se manca ancora un poco? Bene, allora, stiamo ancora aspettando i conti, tra poco noi sapremo quali sono le coppie che devono lasciare ballando con le stelle e qual è la coppia e quali sono invece le coppie che dovranno ballarsi ancora in uno spareggio. La permanenza in gara. Signori, a tra poco. Signori, siamo ritornati a Ballando con le stelle. Questa è l'ultima fase, l'ultima palpitante fase finale prima di trovarci a designare la coppia che passerà alla puntata di sabato prossimo. Quattro coppie sono qui rimaste in gara fino adesso, quattro coppie che voi state votando. C'è Francesca Reggiani con Sergio Sanpaoli, Yuma Diakite con Giuseppe Albanese, eccola, Mario Cipollini con Marina Alexeeva, Fabio Fulco, Claudia Nicolussi. Stoppa le telefonate in questo momento e noi faremo adesso i conti, intanto ho detto stop e non chiamate più perché siamo ora a fare i conti mentre le quattro coppie aspettano il vostro giudizio. Che cosa succederà a questo punto? Succederà che noi dovremo ancora disputare un ultimo ballo di spareggio per decidere chi è la coppia che veramente arriva alla semifinale di sabato prossimo. Come vi avevo annunciato, è molto dura questa puntata e adesso vi dovrò annunciare chi invece è fuori e non parteciperà allo spareggio. Allora, intanto chiedo di cambiare le luci, di creare l'atmosfera e procediamo a scoprire tra queste quattro coppie chi va in spareggio finale e chi invece purtroppo lascia ballando con le stelle. È stata per tutti e quattro, credo, una serata densa di emozioni, tutti e quattro si sono comportati da veri campioni, da veri competitori. Non hanno mollato mai, hanno ballato con grande determinazione fino in fondo. Adesso siamo veramente alla stretta finale. Sabato prossimo, noi appunto torniamo il sabato sera e sabato prossimo insieme con i campioni che voi avete già qualificato ballerà anche una di queste coppie. E lì veramente la lotta si fa durissima, perché arriviamo poi alla finale, alla consegna della Coppa di campione di Ballando con le stelle 2005. Ma chi è che voi volete escludere da questa competizione? ecco, mi sono arrivati i risultati e allora vi dico che lascia ballando con le stelle la coppia formata da Francesca Reggiani, Sergio Sampaoli. grazie a tutti e al pubblico anche in sala, purtroppo. La gara è durissima. vorrei accendere le luci e vorrei dirvi una cosa. Noi salutiamo Francesca con grandissimo affetto, con davvero abbracciando una campionessa, una campionessa, come campione e servo. Grandissima. Grazie tante. Allora, adesso abbiamo tre coppie che sono rimaste qui in attesa di giudizio. Lo spareggio sarà ballato da tutti e tre. Tra queste tre coppie voi eleggerete l'unica semifinalista, ma lo farete sabato prossimo. Loro balleranno in testa alla puntata di sabato prossimo, si alleneranno tutta la settimana. Votate durante la settimana. Fabio Codice 01, Mario Cipollini Codice 03, l'unica di Cipollini Codice 04. Ci risolviamo la vita in diretta e adesso guardate. TV7 dopo di noi qui su Rai 1 e domani alle 17.45 il riassunto di questa puntata. Così ne saprete di più. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Via al telemoto. Via al telemoto per tutta la settimana. E ballate ancora con voi. Mili, da lunedì possono acquistare è uscito da lunedì il disco nuovo di Ballando con le Stelle in tutte le edicole. Eccolo qua. Con la Big Bell e con Paolo Belli i nostri fantastici vocalisti che ritroverete di tale emozione di Ballando. Ricordate di stare per Yuma, per Mario e per Fabio. Grazie, grazie, grazie. Sabato prossimo Ballando con le Stelle con Mili Carlucci. TV7 tra poco. TV7, seguidelo. Ciao.